Il servizio dell'assistenza ai più poveri è certamente uno dei primi segni con il quale la comunità cristiana si presentò sulla scena del mondo. È importante farsi promotori dei bisogni dell'altro, andando incontro alle situazioni di maggiore disagio, senza aspettare che i bisognosi chiedano aiuto. Così il Liber Sinodalis nel paragrafo dedicato agli animatori di carità, il servizio, a partire dalla fede. La testimonianza della carità non è dunque un'opzione per i cristiani, ma una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza. L'operatività della carità stiocesana di Arezzo Cortona Sansepolcro, zonale e parrocchiale, è dunque costantemente in movimento perché chiamata ad aprire strade nuove al fine di conoscere e di accogliere i crescenti molteplici bisogni dell'umanità. Continuano le opere, i progetti e i servizi a favore delle persone e delle famiglie più in difficoltà presenti nel territorio diocesano. Purtuttavia, spiega il direttore della Caritas diocesana, Monsignor Giuliano Francioli, riteniamo che sia giusto riprendere un'attenzione alla mondialità e all'universalità dell'impegno cristiano. Per la Quaresima di Carità dell'anno 2020, prevista come sempre durante la terza domenica di Quaresima, accogliamo l'invito del nostro Arcivescovo Riccardo a realizzare il progetto Due Pozzi in Tanzania, nella Chiesa Sorella della Diocesi di Morogoro. La condivisione e il supporto a questa iniziativa sarà il segno della nostra Pasqua cristiana. Quest'anno le parrocchie della zona pastorale senese sono chiamate a partecipare alla raccolta dell'olio destinato alla benedizione del Giovedì Santo e al sostegno delle mense Caritas.